I fondi di comunità danno adito subito a una coniugazione di bene, a una coniugazione di attenzione, di sostegno. Per cui mi pare che questa attenzione possa tradursi in occasione di bene, in occasione di solidarietà e in occasione di sostegno. E in una comunità, soprattutto quando si intercettano condizioni di fatica, di difficoltà, addirittura di povertà, qualche volta anche di miseria, come magari sono le nostre, non credo però, in maniera forse così forte, però sicuramente presente, a me pare che possono essere molto utili e nello stesso tempo anche incentivati e incentivabili. Non bisogna essere gelosi magari delle motivazioni per le quali uno lavora, bisogna essere capaci di portare motivazioni a chi in questo momento potrebbe essere di aiuto attraverso i suoi investimenti, attraverso la possibilità che ha accumulato nella sua vita e offrirla nella prospettiva della grande libertà e della possibilità che ciascuno, guardando anche le condizioni degli altri, possa, non perché fa parte di una parrocchia, fa parte di un gruppo, fa parte di un'altra attenzione, ma perché fa del bene, non mi pare che dobbiamo farci la guerra per accapparrarci quelli che ci sembrano essere coloro che ci danno una mano. È chiaro che questa riflessione non vuole essere qualunquista, però nello stesso tempo apprezza e vuole essere anche un modo con cui tutte le persone, a qualsiasi condizione anche di vita e di sensibilità appartengano, possono essere aiutati a fare del bene e ci sono possibilità perché questo aiuto sia concreto. Il tema dei lasciti è sempre molto delicato, è prezioso, ha sempre qualcosa che in qualche modo, da un punto di vista anche familiare, da un punto di vista delle relazioni interpersonali, non sempre riesce ad essere vissuto o accolto come qualcosa di naturale. Talvolta si vede le volontà di chi lascia qualcosa, sembrerebbe che sottraggano oppure non siano attenti o nello stesso tempo non sostengono ciò che invece la famiglia si aspetta. Vista dalla mia parte magari sembrerebbe un po' come dire che offra il fianco ad altre riflessioni perché dice ma come sei lì tu, sarebbe bello che tu ti fassi o mettessi a disposizione queste possibilità per il contesto nel quale vivi, per le condizioni che conosci. Però se anche sosteniamo comunque Tukur, questa generosità in maniera tale che ciascuno, attraverso la sensibilità che ha e nelle condizioni che ha vissuto, può essere davvero capace di portare questa idea di bene come viaggiante, viaggia in mezzo alle cose belle. Questa idea di bene che atterra dentro le situazioni di cui c'è bisogno, avendo a disposizione tante possibilità, non solo quelle religiose ma anche quelle appunto del territorio o di altri enti e poi riparte, c'è proprio la possibilità di incontrare una realtà che ci toglie un po' dalle nostre grettezze, magari anche dai nostri confini, dai nostri, come dicevi tu, campanilismi e ci apre un po' a chi ha bisogno, solo a chi ha bisogno. Ecco, mi pare che queste siano le possibilità concrete e anche quelle più oneste per poter non essere gelosi di quanto uno lascia facendo del bene. Il Fondo Comunità di Premana nasce nel 2000 quando alcuni parrocchiani fanno presente al parroco protempore di Premana questa opportunità. viene mandata poi una lettera a tutti i preti nativi di Premana e da loro si ha una risposta affermativa e si inizia allora a stendere uno statuto in conformità anche a quello che la Fondazione Provincia di Lecco richiedeva. Naturalmente il Fondo Comunità di Premana in questi 17 anni si è incrementato per alcuni lasciti di parrocchiani oppure durante la festa della comunità che è l'11 gennaio la parrocchia raccoglie sempre dei fondi per appunto incrementare il Fondo Comunità di Premana. È interessante cogliere come questo Fondo Comunità di Premana matura durante l'anno un interesse ed è questo interesse è spendibile su progetti legati al proprio territorio che possono riguardare aspetti socioassistenziali oppure culturali dei beni artistici. Con il Comitato che sempre in quel giorno 11 gennaio si dà un po' l'appuntamento e cerca grandi linee di vedere in che modo usufruire sia dell'interesse maturato sul fondo oppure quale progetto presentare alla comunità territoriale dell'Ecchese questo è il talento che raddoppia o si triplica o si quadrupla quindi non certamente per un arricchimento della parrocchia ma invece proprio al fine di mettere sul territorio dei beni che sarebbero andati, non dico persi, comunque non apprezzati nella loro bellezza e con l'intervento del Fondo Comunità di Premana e il 50% del Fondo Territoriale Lecchese ecco che questo progetto viene portato a compimento. Il nostro fondo che è all'incirca 105 mila euro con gli interventi fatti è stato ben superato e nello stesso tempo abbiamo ancora il capitale a nostra disposizione a disposizione del territorio di Premana in modo da poter valorizzare i vari aspetti anche della comunità stessa. Sull'ambito socio-assistenziale ci sono stati degli interventi nei confronti della Casa Madonna della Neve che è una casa di ricovero per gli anziani e anche sostenendo un progetto che ci è stato fatto presente dal gruppo Alpini di Premana. Questi 17 anni abbiamo avuto comunque dei lasciti abbastanza significativi sui 10 mila euro che sono andati a incrementare proprio il Fondo Comunità di Premana.